La caduta è la prima sensazione che avverto. Voci distanti riecheggiano nella mia testa. Sono ordini molto chiari, ma io non riesco che a pensare agli altri. Remiele, Uriele, Amitiele, Ituriele, Raffaele, Michele. Ognuno di loro ha fatto questo percorso. Qual è stato il loro destino? Cosa mi attende dall'altra parte? Sono andato in un luogo in cui la luce è maledetta e l'oscurità acceca l'anima. Un luogo che persino gli angeli temono di attraversare. E' questo che volevi? E' questo che volevi? Mi hai mostrato la via, ma non gli ostacoli. Come posso tornare dopo tutto quello che è successo? Michele, Amitiele. Ho bisogno di sentire. Ho bisogno di capire come sia successo. Nel tempo darei forma a nuovi arcangeli e quanto è accaduto sarà dimenticato. Non posso permettere che accada. Non lascerò che accada. Mi hai allontanato dalla grazia. E ora io soccombo. Ho la speranza di rivederti. La caduta E' l'ultima sensazione che un angelo avverte. Una voce distante riecheggia nella mia testa. Ma per la prima volta è la mia. Perdonami. 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 E' la mia. Grazie.